Buonasera a tutti e benvenuti al secondo incontro dedicato alla storia della dominazione veneziana nella terraferma veneta legato al progetto di celebrazione dei 1600 anni dalla nascita di venezia dunque abbiamo già affrontato e superato un primo incontro con giacinto cecchetto durante il quale abbiamo discusso di castelfranco veneziana ora invece faremo un passaggio diciamo di apertura di prospettiva andando ad affrontare con i nostri ospiti di questa sera che poi brevemente vi presenterò questo tema siglare un patto venezia e i domini di terraferma daremo cioè uno sguardo generale più largo sull'intera terraferma cercando di capire le modalità attraverso cui avvenne la complessa costruzione statuale veneziana e quali ne furono alcuni certamente non tutti degli esiti più rilevanti e più caratteristici come vi dicevo avremo nostri ospiti questa sera Giovanni Florio dell'università di Padova ed Enrico Valseriati dell'istituto storico italo germanico in Trento entrambi sono ricercatori impegnati entrambi su progetti europei diversi per temi o per meglio dire per tagli ma che hanno in comune comunque l'attenzione delle loro specifiche ricerche dedicate alla storia della Repubblica di Venezia in età moderna e perlomeno nel caso di Enrico Valseriati anche un po' di tardo medioevo. Altro elemento che caratterizza i nostri due ospiti oltre appunto questo dell'attenzione non esclusiva ma comunque molto forte nei confronti della Repubblica di Venezia è la loro attenzione per aspetti legati alla divulgazione scientifica nel caso di Giovanni Florio e alla didattica della storia nel caso di Enrico Valseriati. Mi piace ricordare a proposito che Giovanni Florio è dal 2015 il direttore artistico del Festival Venezia da Terra che si tiene in alcuni comuni del Basso Vicentino e che ogni anno sta conoscendo dei passi avanti e che ad esempio ricordo tra le varie cose organizzate invece da Enrico Valseriati questi recenti podcast degli incontri con storici che stanno anch'essi riscuotendo molto successo. Io non rubo altro tempo a voi che ci ascoltate, do la parola a Enrico Valseriati e a Giovanni Florio e auguro a voi una buona serata e un buon ascolto. Grazie dell'invito veramente al nostro amico Matteo Melchiorre e al Comune di Castelfranco grazie soprattutto per aver pensato. Mi permetto questo primo minuto per fare dei ringraziamenti dovuti ma oltre modo sinceri io volevo ringraziare anche chi ha avuto l'idea di organizzare questo ciclo di incontri qui nel Teatro Accademico di Castelfranco. I teatri sono luoghi che sono chiusi da un bel po' di tempo nell'ultimo periodo ma il fatto che siano chiusi non implica il fatto che abbiano abdicato il loro ruolo di polo culturale per il territorio a continuare a essere aperti e continuare in qualche modo a produrre cultura e credo che questa sia un'occasione di questo tipo e noi noi ci proviamo noi ci proviamo ci impegneremo ad onorarla questa occasione ecco da un certo brivido sentire no scricchiolare il palcoscenico sentire il velluto di una poltrona è qualcosa che regala emozioni ed è anche un po' un privilegio in un momento come questo. È un piacere essere qui nel Teatro Accademico di Castelfranco Veneto a parlare di un tema molto interessante e pensiamo molto trascurato anche dalla storiografia in generale ma poco conosciuto anche al pubblico ovvero il tema delle dedizioni che cosa sono le dedizioni esattamente? Bene quando Venezia agli inizi del 400 inizia a espandere il suo dominio sull'entroterra sulla terraferma ha bisogno di una modalità chiamiamola giuridica per legittimare la sua sovranità nell'entroterra una dimensione che non era propria della sua antropologia della sua costituzione tutta rivolta al mare rivolta ai traffici mercantini nel Mediterraneo e viene trovata questa modalità che in realtà è deriva dalla sua natura antropologica di Repubblica Marittima abituata a contrattare abituata a siglare dei contratti con i suoi partner economici mediterraneo che è il patto di dedizione e già qui entriamo in un tema piuttosto intricato che cercheremo di spiegare in maniera piuttosto semplice secondo una storiografia secondo una letteratura molto diffusa ancora oggi Venezia conquista la terraferma cioè la conquista attraverso l'azione bellica e attraverso il diritto di guerra il cosiddetto ius belli ebbene in realtà le cose andarono un po' diversamente o non fu solo così ad esempio nel caso di Padova sicuramente nel 1405 il diritto di conquista di Venezia fu ottenuto proprio grazie a azioni militari ma altre comunità che noi siamo abituati a pensare conquistate da Venezia nella realtà dei fatti si donarono si dedicarono completamente a Venezia ai principi del 400 il primo caso conosciuto ovviamente quello di Vicenza la prima città a donarsi a Venezia nel 1404 quasi a superare un impasse in cui si era trovata nel secolo precedente schiacciata tra le due grandi città vicine di Padova e di Verona e così in questo processo molto complicato tra conquista territoriale e donazioni di comunità a Venezia agli inizi del 400 si completa la formazione di quello che noi siamo abituati a chiamare Repubblica di Venezia o Stato da terra oppure ancora terraferma Veneta. È un processo molto complicato che passa da una documentazione effettiva che noi possiamo reperire negli archivi e nello specifico presso la magistratura del senato all'archivio di Stato di Venezia ovvero i patti di dedizione. Che cosa sono questi patti di dedizione? Sono un testo che produce un corpo intermedio come si suole dire che è quello giuristi delle comunità locali e viene sottoposto alla dominante che è Venezia. A sua volta la dominante risponde positivamente o negativamente alle richieste politiche, economiche, sociali, persino anche culturali delle comunità che ora si trovano a lei assoggettate. Siamo abituati a pensare a Venezia come appunto una dominante, una città che si impone su delle comunità. In realtà le comunità avanzano i propri diritti o meglio le richieste di diritti nei confronti di Venezia ed è in questo rapporto dialogico che si gioca insomma il rapporto tra Venezia e l'entroterra nella prima fase dello stato territoriale veneziano. È un aspetto molto interessante che coinvolge le elite sociali delle comunità soggettate che siano esse grandi città oppure borghi, confederazioni di comuni, consigli di valle. Questo è un aspetto molto interessante perché i soggetti politici coinvolti non sono solo le città, anche comunità come Castelfranco Veneto, i grossi castra, i castelli del territorio, dell'entroterra che poi definiamo veneziano hanno un potere contrattuale nei confronti di Venezia ed è in questo rapporto di reciproca conoscenza come è stato definito che si gioca per l'appunto il fragile eppure vincente stato territoriale veneziano del Quattrocento. I soggetti politici con cui Venezia dialoga in questa prima fase di espansione in terraferma non sono solo le comunità, i consigli delle città, delle grandi città capoluogo che conosciamo un po' tutti, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Brescia e Bergamo. Sono anche delle persone, sono i signori locali, determinano fermamente i rapporti tra Venezia e il territorio nel corso del primo Quattrocento. Si pensa ad esempio alla patria del Friuli. Il Friuli è un territorio molto frammentato, quasi un mosaico è stato definito tra signorie locali, signorie esterne delle esclav, per esempio, dell'impero. Ebbene, sono proprio i signori che contrattano direttamente con Venezia il modo in cui devono far parte dello stato regionale veneziano. È una fase entusiasmante della storia politica italiana ed europea della prima età moderna e ancora oggi non abbiamo forse ben capito di che cosa si tratta. Beh, Enrico, con questo tuo primo intervento è già assolto a un compito estremamente difficile perché semplicemente inquadrare che cosa sia una dedizione è qualcosa di estremamente complesso. Sulle dedizioni si è scritto, si è scritto molto. Forse in questo momento, ecco, l'attenzione storiografica è venuta un po' meno ma sottotraccia chi è dentro ai problemi di storia e di storiografia di Venezia e dei territori veneti in generale, ha ben chiaro come questo tema delle dedizioni sia un po' un filo rosso che attraversa tantissimi studi a riguardo. E tu, con questa tua prima relazione, con questo tuo primo intervento introduttivo, hai messo bene in luce tutta questa complessità. Abbiamo diversi soggetti, da un lato abbiamo un soggetto che può apparirci come il soggetto forte, Venezia. Venezia che ad un certo punto, soprattutto con l'inizio del Quattrocento, si rivolge verso la terraferma, inizia una manovra decisa ma sistematica di conquista che la porta ad assoggettare di volta in volta dei domini diversi, delle realtà, delle entità politico e territoriale di diversa natura e tu le hai molto ben inquadrate, abbiamo certamente le grandi città, ma abbiamo anche le comunità rurali, le comunità di valle, strutture feudali abbiamo. Ecco, Venezia impone la propria sovranità su una serie complessa di entità politiche e territoriali. Vi dicevo che può sembrare un soggetto forte per l'appunto Venezia nel fare questo. In realtà questo soggetto, che è certamente il soggetto dialettico più forte in questo momento, si deve confrontare con delle forti resistenze che arrivano proprio da quelle realtà che a Venezia vengono assoggettate, delle realtà, come hai ben spiegato, che in qualche modo sfruttano questo momento, il momento della dedizione che, permettetemi una romanticheria, è un po' un momento del possibile. È un momento nel quale, appunto, essendo un momento dialettico, è un momento nel quale diversi sono gli esiti possibili, è un momento in cui bisogna pensarlo questo stato territoriale. Lo stato territoriale di Venezia è qualcosa che non esiste e che viene creato in quel momento lì che tu hai ben fotografato con questa tua relazione. Bisogna pensarlo e bisogna strutturarlo attraverso dei linguaggi che sono anche e soprattutto dei linguaggi giuridici. Tu hai evocato i giuristi, giustamente, sono i grandi tecnici ma anche intellettuali che pensano in questo momento lo stato territoriale e lo pensano attraverso queste pattuizioni fra questi due soggetti che vi dicevo, dal lato Venezia, dal lato la poliedricità delle sue realtà suddite che in qualche modo devono, ed è il titolo di questa nostra relazione che arriva da un tuo suggerimento anche, che è siglare un patto, devono in qualche modo stringere degli accordi che saranno gli accordi portanti la struttura territoriale veneziana in terraferma. Ora, posto questo momento del possibile della dedizione in cui si pensa allo stato territoriale e posta la tua relazione introduttiva, io mi chiedo che cosa vi posso raccontare, visto quello che già abbiamo detto. Nel preparare questo nostro incontro abbiamo pensato che forse a me poteva aspettare il ruolo di raccontare che cosa succede il giorno dopo la dedizione, il giorno dopo in termini storici però, un giorno dopo che guarda a lungo periodo, perché le dedizioni vengono strette, questi patti vengono siglati in un momento ben preciso ma perdurano. Quello che viene stabilito nel momento della dedizione continua a produrre degli effetti nei secoli e per i secoli avvenire fino alla caduta della Serenissima. È vero che i patti di dedizione nel corso dei secoli vengono rivisti, subiscono anche delle forti revisioni, in alcuni casi vengono risiglati addirittura, ma è pur vero che lo schema giuridico pensato ad inizio, soprattutto ad inizio 400 con le dedizioni, permane nella sua validità per tutto il periodo del dominio Veneto in terraferma. E come mai rimangono valide queste dedizioni? Come mai quegli spazi che le comunità suddite riescono ad ottenere dalla Serenissima rimangono validi? Beh, a mio avviso c'è solo una risposta sensata da dare a questa domanda. Le dedizioni rimangono valide perché c'è conflitto intorno a loro e c'è conflitto intorno alle peculiarità, le particolarità che le dedizioni vengono a sancire. Come mai le dedizioni rimangono valide per così tanto tempo? Siglate, nella maggior parte dei casi, ad inizio 400 rimangono valide nella loro sostanza fino alla fine del 700, fino alla caduta della Serenissima. Beh, guardate, a mio avviso per rispondere a questa domanda c'è solo una risposta da dare. Le dedizioni continuano a produrre realtà, continuano ad essere ritenute e ad essere valide perché intorno a loro c'è conflitto. Da un lato abbiamo delle istanze che vorrebbero superare la dinamica e le realtà, la struttura costruita attraverso le dedizioni, dall'altro c'è un forte attaccamento appunto a quelle aree, quegli spazi di manovra che vengono concessi alle realtà suddite da parte delle dedizioni stesse. C'è conflitto e questo conflitto lo vediamo ancora una volta nell'archivio. Chi abbia familiarità con gli archivi di area Veneta ha ben presente quanto l'archivio di questo ci parli. Nel momento in cui noi andiamo a indagare il rapporto fra Venezia e la terraferma scopriamo che è un rapporto perennemente segnato dal conflitto, dalla rinegoziazione, se vogliamo, implicita o esplicita di questi patti siglati al momento della dedizione. Ecco, vi dicevo che questa sarebbe la risposta da dare e io ho cercato di darla in sommi capi. Quello che tenterò di fare oggi è di provare un'altra via per rispondere a questo tema e ragionare su come la continua rivalidazione, riconferma della dedizione e dei patti di dedizione passi certamente dal conflitto, ma passi anche attraverso le immagini. È un mondo, quello dell'età moderna, che ha bisogno di vedere e soprattutto di vedere l'astratto. Un patto, la validazione di un patto, la validazione di un fatto giuridico passa anche attraverso la costruzione di immagini e di immaginari intorno a questo fatto stesso. C'è bisogno di visualizzarle queste dedizioni. L'istanza emerge subito, possiamo dire, sin dall'inizio del Quattrocento. Si ha la necessità periodicamente di ritornare a vederlo, questo momento originario che giustamente tu hai definito. E la prima risposta che viene trovata per continuare a vedere questo momento della dedizione, a perpetrarne la validità attraverso l'immagine, ebbene la prima soluzione che viene trovata è quella di affidarsi ad un linguaggio che è effimero, ma che oltre in modo pervasivo, soprattutto in età moderna, che è il linguaggio del cerimoniale. Pensate, ad ogni elezione di doge, la maggior parte, la gran parte delle realtà suddite, e penso soprattutto alle grandi città, sono solite compiere un rituale particolare. Sono solite eleggere un'ambasceria, mandarla a Venezia e incaricarla di congratularsi con il doge neoeletto. E in che modo? Beh, il cerimoniale è molto complesso, ma volendo ridurlo ai suoi tratti salienti, bene, questa congratulazione che viene espressa nei confronti del doge si esprime attraverso due momenti. Il primo è la recitazione di un'orazione gratulatoria nei confronti del doge neoeletto. La seconda è attraverso il compimento di un inchino. Ebbene, questi due gesti, che poi magari nel corso di questa nostra chiacchierata andremo ad indagare in maniera un po' più precisa, sono gli stessi gesti che vengono compiuti a livello cerimoniale nel momento originario per sancire la dedizione. Anche quando c'è, anche nel momento della dedizione, le comunità sottomesse a Venezia sentono la necessità di compiere questo gesto. La dedizione passa ovviamente dal momento giuridico, la stipula del patto di dedizione, ma passa anche attraverso il cerimoniale ed è un cerimoniale che vediamo in qualche modo replicato ad ogni elezione di doge con queste ambascerie gratulatorie. E magari nel corso di questa nostra chiacchierata potremmo approfondire la questione. Quello che dicevi Giovanni è davvero molto importante, ci dà anche una dimensione che spesso viene trascurata o che non è conosciuta da un pubblico che non è avvezzo agli studi storici, ovvero distinguere tra Venezia e tutte le comunità assoggettate nel processo di espansione verso la terraferma e quindi anche nel siglare i patti di dedizione. Venezia è la Repubblica di Venezia, il Comune Veneziarum è il Comune e la Repubblica che detiene il controllo assolutamente esclusivo delle magistrature, ad esempio delle alte magistrature dello Stato. Abbiamo citato molto velocemente il Senato, ma ovviamente ci sono i procuratori di San Marco, il doge nella sua funzione più simbolica, rituale, che tu hai giustamente rimarcato. E dall'altra parte cosa c'è? Dall'altra parte c'è un'immensità, un'infinità di realtà politiche che si distinguono l'una dall'altra. Brescia non è Verona, Vicenza non è Padova, le piazze forti militari come Castelfranco non sono Noale. Ognuno per l'altro è un foresto, non c'è un'identità che è complessiva. Noi sentiamo spesso parlare e sentiamo spesso nominare questa parola, identità Veneta nello specifico, ma la terraferma Veneta non è solamente Veneta, è anche Friulana come abbiamo già detto, è anche Lombarda. La Repubblica di Venezia così come la intendiamo noi storici e come forse non viene percepita dal pubblico in realtà è qualcosa di molto più complesso. Nel processo di espansione verso l'Occidente Venezia supera ad esempio un confine che è naturale ma è anche veramente simbolico, è il Mincio. Il fiume Mincio che porta Venezia in una dimensione che non è affatto sua. La Lombardia, la Lombardia veneziana, costituita da due grandi centri che sono Brescia e Bergamo. Brescia con Verona è la città più importante della terraferma Veneta, ce ne dimentichiamo spesso, possiamo parlare di identità Veneta, ma c'erano anche i Lombardi, i Friulani, gli Istriani, Albanesi, i Greci, era qualcosa di molto più complesso. Addirittura Venezia arriva a conquistare nel corso del Quattrocento seppur tardi Ravenna, Cremona e Crema che rimane per tutto il tempo parte della terraferma. E qui ti vorrei lanciare una provocazione d'archivio veneto, perché preparando questa che non chiamiamo lezione ma chiacchierata sulla terraferma Veneta che non definiremo mai in maniera assoluta, ebbene sono andato a riprendere in mano un documento che trovai qualche anno fa all'archivio storico del comune di Crema. Quanti veneti non sanno che Crema è stata parte della loro repubblica per quasi quattro secoli? Bene, quando Crema decide di donarsi a Venezia dopo le guerre Venete e Viscontè del 1438-40, con la seconda dedizione delle città lombarde, perché appunto, come dicevi, c'è un secondo momento di patruzione, Crema prepara due testi uguali. 1449, uno per il Duca di Milano, uno per la Signoria. Questo ci dà la dimensione di che cosa sia la formazione di uno stato territoriale, chiamiamolo medievale, perché questo non è moderno, come dicevi tu, non essendo centrale, essendo policentrico, un mosaico, un insieme di frammenti, ci dà appunto l'idea che non sia uno stato moderno. Ecco, lì, che per loro, non dico che l'uno vale l'altro, il Duca di Milano, la Signoria di Venezia, però si preparano le due possibilità. E quanta storia medievale della prima età moderna italiana è andata così, è andata non secondo i piani? Come ti dicevo, questo caso cremasco fa vedere chiaramente come il momento della dedizione sia un momento del possibile, come dicevo. È un momento che ha una forte aleatorietà, una forte incertezza insita nel momento della dedizione, perché è il momento in cui si decidono dei destini futuri, ma si costruiscono in qualche modo e si costruiscono in forma dialettica attraverso un confronto, ma anche un attrito, se vogliamo, fra un polo forte, come dicevamo prima, Venezia e delle comunità suddite, delle realtà suddite che tuttavia, certo, si pongono in questo momento negoziale come interlocutore o come attore debole, ma il fatto di essere attore debole non vuol dire non essere attore, non vuol dire non poter avere dei margini di azione e di negoziazione che permettano di ritagliarsi degli spazi, anche consistenti in alcuni casi, e questo caso cremasco che tu hai citato lo fa vedere chiaramente. Io invece sulla scorta di quello che tu giustamente ci dicevi, del fatto che insomma, quando parliamo di Repubblica Veneta, di cosa stiamo parlando? Beh, la Repubblica è Venezia, è una domanda che molto spesso viene fatta in occasioni come queste, nel momento in cui ci si trova a parlare un po' al di fuori del mondo accademico, molto spesso ci viene posta come storici questa domanda di spiegare che cosa sia la Repubblica di Venezia, ed è una domanda veramente complessa. Io quando mi trovo di fronte a questa impasse, perché tale è, uso sempre appoggiarmi a un testo conosciuto, ma non troppo devo dire la verità, non troppo utilizzato, che è insomma questa relazione della Repubblica Veneziana di Giovanni Bottero, un grande trattatista di inizio 600, dobbiamo a lui quella che comunemente è un'espressione abbastanza comune, l'idea di ragion di Stato la dobbiamo appunto alle formulazioni di Giovanni Bottero. Giovanni Bottero in questa relazione della Repubblica Veneziana a un certo punto, in un passaggio oltremodo icastico, dice questo, che il governo della Repubblica, anzi il governo dei Veneziani è diviso in due parti, perché in un modo, cito a memoria più o meno, in un modo i signori veneziani governano loro stessi e in un altro governano i loro sudditi. Hanno anche due diritti differenti. Hanno due diritti differenti, è questo il punto, è questo il punto ed è questo il punto segnato dalle dedizioni, le dedizioni vanno a segnare questo, vanno a segnare l'imporsi dell'autorità veneziana secondo dei limiti che sono strutturati attraverso le dedizioni su realtà che non saranno mai incluse nella Repubblica di Venezia in toto, saranno sottomesse ad essa, faranno parte del suo stato territoriale, ma non saranno in senso stretto parte della Repubblica. Provo a spiegarmi meglio. Uno dei tratti salienti che viene definito dalle dedizioni è la mancata inclusione dell'elite di terraferma nel governo della Repubblica. Le dedizioni segnano il fatto che, lo dico anche un po' banalizzando la questione, segnano il fatto che le elite suddite in condizioni ordinarie non possano far parte del patriziato veneziano, non possono entrare all'interno di quel corpo di governo che solo e unico può detenere il governo della Repubblica Serenissima. Cosa vuol dire? Che sono escluse da qualsiasi potere politico queste elite suddite? Certo che no. Vanno ad esercitare dei poteri all'interno di quei margini che sono definiti dalle dedizioni, quindi a livello locale. Quindi continuano a detenere dei ruoli che sono definiti all'interno delle dedizioni, dedizioni che, ricordiamocelo, nel definire questa alterità fra Venezia e le comunità suddite in qualche modo preservano l'identità, ecco che torno a questo termine delle comunità suddite, che mantengono degli istituti precedenti, mantengono ad esempio i loro consigli civici, penso alle grandi città, mantengono le grandi città ad esempio grazie alle dedizioni mantengono, se non rafforzano in alcuni casi, un forte grado di controllo sul territorio. Ecco, ecco la complessità che dicevamo che sta intorno alle dedizioni, che segnano in qualche modo una separazione fra quella che è la Repubblica e quelle che sono le terre ad essa sottomesse, ma in qualche modo nel segnare questa esclusione, in qualche modo vanno a definire anche delle identità locali. Poi nel patto di dedizione si misura la forza ora di Venezia, ora delle comunità che siglano con Venezia questo accordo bilaterale, a fin dei conti, che almeno in apparenza dal punto di vista retorico è alla pari. Ad esempio una grande città come Verona si presenta davanti a Signoria con un grado di forza molto elevato, ma Padova che è una città conquistata con lo ius belli, con il diritto della guerra, in una posizione di debolezza in quel momento, di fragilità, ovviamente deve accettare delle condizioni che forse non sono piaciute proprio a tutti, così come le comunità rurali. Ecco, le comunità rurali sono questa grande massa quasi informe che costituisce gran parte del territorio conquistato da Venezia nel corso del primo Quattrocento e anche lì ci sono comunità che hanno una forza contrattuale di un certo tipo, altre che necessitano di confederarsi, di presentarsi assieme per avere un po' di forza in più. I consigli di valle, per esempio, che sono tantissime nella, chiamiamola Repubblica di Venezia comunque, la Confederazione dei Comuni del Lago di Garda, la sponda bresciana del Lago di Garda, la cosiddetta magnifica patria, come verrà chiamata nel Cinquecento, si presenta tutta insieme per ottenere cosa? Per ottenere che un rappresentante della sovranità centrale di Venezia vada lì, vada nel capoluogo che in questo caso è Salò, ma potremmo anche citare altri casi come il Cadore piuttosto che altre valli. I sette comuni. Perché? Perché vuol dire emanciparsi da quelle grandi città capoluogo che detengono dei poteri locali e dei poteri giurisdizionali sui territori che sono proprio invisi alle comunità rurali e ai contadini in generale. Cosa fanno le grandi città nel territorio tendenzialmente? Vanno a erodere beni primari come i cereali per esempio e tasse e questa è una cosa che non va proprio giù. Allora meglio avere un garante della liceità anche ad esempio del prelievo fiscale che è rappresentato dai magistrati veneziani. Due vanno sempre nelle grandi città e sono un po' destra e un capitano. Nei grandi borghi che hanno un ruolo importante da un punto di vista militare oppure che sono stati in grado di contrattare col patto di dedizione delle condizioni favorevoli e ottengono un provveditore, un rettore unico, ecco, un rappresentante che è un magistrato. Anche questo tema dei tribunali è fondamentale in questa fase. Certo. Ma forse in questo momento qua abbiamo messo tanta carne al fuoco, forse potrebbe essere utile, insomma abbiamo capito e tu l'hai detto benissimo, come a un certo punto ogni dedizione faccia storia a sé. Dipende molto dal momento, dipende molto da quali sono gli interlocutori in campo, dipende molto dalle forze in campo. Come ci dicevi Verona non è Brescia, Brescia non è Padova, Padova non è Vicenza. L'inizio del Quattrocento non è l'inizio del Cinquecento perché va detto anche questo, per cui ci sono diversi fattori, diverse variabili in campo che determinano la specificità di ogni singola dedizione. Detto questo, forse potremmo tentare comunque di tracciare delle linee minime, dei minimi comuni denominatori che in qualche modo vadano a definire che cosa sono queste dedizioni. Abbiamo detto che è un momento in cui si impone la sovranità veneziana su degli enti territoriali e politici sudditi che vengono sottomessi a Venezia ma allo stesso tempo si definisce in che modo saranno sudditi di Venezia, conferendo loro o riconoscendo loro delle prerogative particolari. Allora forse potremmo, anche a beneficio di chi ci sta ascoltando, riuscire a tirare delle linee costruttive, riuscire a capire quali sono queste prerogative che vengono richieste e concesse dalle varie realtà suddite. Ovviamente andando a semplificare delle dinamiche che lo avrete intuito sono estremamente complesse. Proviamoci. La prima dimensione è quella politica, chiaramente. Una delle prime domande che i rappresentanti delle comunità fanno alla signoria è quella di mantenere i consigli civici. Questo soprattutto riguarda le città ma riguarda in realtà anche le comunità un po' più piccole, le quasi città. Ci piace usare questo termine che ha coniato un grande storico e medievoca, Giorgio Chittolini. Questo è il primo punto. E tendenzialmente l'atteggiamento di Venezia è conservativo, è rispettoso delle prerogative locali, sa che ha una debolezza, che abbiamo tacciuto fino a questo momento ma è soggiace a tutti i testi e i patti di dedizione. Venezia non ha un vero e proprio esercito regolare agli inizi della formazione dello Stato territoriale. Si affida a dei condottieri che vengono lautamente pagati e tendenzialmente che tendono anche a tradire la Repubblica, il caso del Conte Carmagnolo ovviamente è più famoso, per cui mantenere lo status quo e la calma, chiamiamolo anche sociale, delle grandi città, dei territori, porta a una risposta positiva. Poi c'è la dimensione anche ecclesiastica che ogni tanto tendiamo a dimenticare. Dimenticare, sì, sul quale forse chi ci sta ospitando potrebbe dire qualcosa di molto più preciso e magari poi lo sollecitiamo anche in questo. No, io invece non per glissare alla tua domanda, però sto glissando, ma vorrei tornare su questo aspetto. Venezia ha delle difficoltà nel momento in cui si impone sulla terraferma. Una è data dalla mancanza appunto di forze militari stabili, ma c'è anche un problema di effettivi che possano garantire un controllo del territorio e forse, forse affidarsi a dei nodi di questo territorio che sono in primis le grandi città, ma per l'appunto le quasi città, corpi intermedi. Ecco, servirsi di corpi intermedi che in qualche modo facciano da collettore di questa nuova sudditanza verso Venezia, beh, forse può essere una strategia utile per reggere uno Stato che è estremamente composito, come avrete capito. Per cui, ecco, questa primissima richiesta, che come giustamente tu hai fotografato, è una richiesta di matrice politica, quella di mantenere le istituzioni civiche della realtà suddita, beh, incontra il favore di Venezia, è chiaramente un'istanza che parte, per così dire, dal basso, per così dire, dalla realtà suddita, ma incontra il favore di Venezia perché Venezia intuisce che ci si può servire di queste istituzioni intermedie per andare a controllare meglio un territorio che altrimenti, per le forze che Venezia ha in quel momento, forse sarebbe un po' sfuggente. Ecco, per cui, per completare un attimino questo tuo quadro dato su questa prima richiesta che è per l'appunto di matrice chiaramente politica. E poi, le altre richieste, beh, una l'abbiamo già intravista, è quella di mantenere, e questo lo vediamo soprattutto nelle dedizioni delle grandi città, di mantenere un certo controllo sul territorio, un controllo che si esprime attraverso la fiscalità e l'economia. una delle grandi prerogative che, insomma, le realtà, le grandi realtà suddite continuano a chiedere a Venezia è quello di, insomma, benissimo, Venezia ci dirà quante tasse dovremmo versare, e beh, ma come ripartirle? Lo decidiamo noi, lo decidiamo noi attraverso quei consigli che ci sono stati garantiti attraverso la dedizione. Dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa al riguardo... No, no, esattamente così. Nella primissima fase dell'espansione veneziana in terraferma, all'inizio del Quattrocento, Venezia, in una chiave retorica maternalistica che è tipica della dominante, che manterrà fino alla fine dei suoi giorni, asseconda molto le comunità rurali rispetto al loro rapporto di, chiamiamola così, subalternità nei confronti dei grandi capoluoghi. Con la seconda dedizione, che è quella di metà a Quattrocento, in realtà le città calano l'asso e dicono noi vi abbiamo sostenuto economicamente con uomini durante le guerre contro Milano, principalmente, quindi avanziamo ulteriori diritti sui territori. E cosa fanno? Delegano alle grandi città il potere di nominare vicari e podestà nel territorio. È una cosa che fa imbestialire le comunità rurali per tutta la durata, per tutta la vita della Repubblica di Venezia. I consigli civici, quelli di cui parlavi giustamente tu, che sono delle entità anche chiuse, e Venezia apprezza che siano chiuse e non aperte alle altre classi sociali, nominano questi magistrati cittadini che vanno nel territorio. Guai. È una fonte ulteriore di conflitto in cui si giocano anche equilibri, non solo locali, ma anche di carattere internazionale. Questo è uno dei temi, ad esempio, su cui si scivola nel 1509. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poste queste linee costruttive che, come abbiamo visto, sono da un lato politica e da un lato economica, poi le dedizioni in qualche modo fa storia a sé. Poi, poste queste due grandi esigenze, quella di mantenere gli istituti locali, di mantenere un controllo sul territorio che si esprime su varie forme. Noi abbiamo parlato della forma fiscale e militare, ma c'è anche la forma giurisdizionale. Determinate città suddite ottengono la possibilità di mantenere delle vere e proprie giurisdizioni, insomma, dei tribunali a nomina locale, a nomina municipale, che derivano dal Consiglio Civico che esercitano una forma di giustizia di prima istanza, soprattutto a livello locale, ponendosi in contrasto con quello che in realtà Venezia tenderebbe a volere. Quindi un'idea di giustizia che in qualche modo sia un po' più sotto controllo da parte dei grandi tribunali veneziani, i grandi tribunali veneziani che troveranno il modo di bypassare queste giurisdizioni garantite dallo schema dato dalle dedizioni, in che modo? Ponendosi come tribunali d'appello. E qui forse, sempre rimanendo nel tema della dedizione, forse si potrebbe fare un affondo su quello che è il sistema giuridico che è pensato attraverso le dedizioni, o meglio, che trova legittimazione attraverso la dedizione. Ma se il Comune di Castelfranco Vento ci invita per altre dieci sedute, forse riusciamo a spiegare qualcosina delle altre magistrature dello Stato, di quelle che tu giustamente hai chiamato magistrature d'appello, in fin dei conti. Sono tantissime. C'è chi ha competenza sul civile, chi sul criminale, chi sull'operato anche dei magistrati veneziani, perché esistono, e questa è una grande trovata di Venezia in realtà, che le permette di avere lunga vita, esistono delle magistrature che controllano quei rappresentanti di cui abbiamo parlato prima. Le quarantie, ad esempio, controllano che i conti siano in ordine, che i rettori si comportino bene. Questa è un'ossessione di Venezia, dare un'immagine di sé anche attraverso le sue magistrature di correttezza e di spendibilità sociale dei propri rappresentanti. Ovviamente esistono magistrature più o meno importanti. Parliamo, o acceniamo, almeno a tre. Una, l'abbiamo già detto, è essere il Senato, che è anche da un punto di vista così lessicale, l'erede classico del Senato romano, in cui appunto siedono le persone che decidono le sorti dello Stato e quindi anche dei rapporti rispetto alla terraferma. Poi c'è tutta una divisione interna di cui non possiamo dire, su cui anche noi ogni tanto cerchiamo di capire qualcosa, ma non sempre riuscendoci. C'è il Consiglio dei Dieci. Il Consiglio dei Dieci è un'altra magistratura che si occupa soprattutto di fatti criminali. I rettori sono delegati dal Consiglio dei Dieci in terraferma per svolgere alcune funzioni, ma poi i processi devono andare appunto da loro a Venezia. Un ultimo è la magistratura su cui si fa più confusione, Giovanni, il maggior consiglio. Siamo spesso abituati a sentire che l'espressione di una parola veramente impropria, della democrazia veneziana sia il maggior consiglio. Cioè la magistratura molto larga, molto ampia, in cui tutti i cittadini sono rappresentati. Noi sappiamo che non è andata veramente così alla fine del XIII secolo. Il maggior consiglio è una magistratura molto larga, che in effetti rappresenta la città di Venezia. Ma è anche questa l'espressione di un'elite sociale, che è il patriziato veneziano. Sciogliamo questo dubbio, vorrei dire per sempre, ma non sarà così. Venezia non è una democrazia, neanche il comune, il comune veneziarum, il comune di Venezia non rappresenta tutti i ceti sociali, rappresenta solo le elite sociali. Che poi esistono altre forme di rappresentazione della cittadinanza con fraternità, scuole. Questo è un altro discorso, ma le magistrature sono appannaggio per appunto dell'aristocrazia cittadina. Ecco, facendo un passetto indietro però, andando sempre con questa idea di provare a distillare dei tratti comuni all'interno di questa enorme complessità che stiamo cercando di definire, forse un tratto distintivo da un punto di vista del diritto dato dalle dedizioni è il fatto che uno dei grandi temi, insomma, uno dei grandi nodi che si tenta di sciogliere o forse di aggrovigliare ancora di più attraverso la dedizione è quello del diritto. E abbiamo detto che rimangono vive le istituzioni civiche e locali. Ebbene, rimangono vive anche quelle forme giuridiche che vanno a regolamentare il funzionamento di queste strutture civiche, che sono gli statuti. Gli statuti che vengono, sui quali Venezia detiene una capacità di controllo, ricordiamolo sempre, e di revisione, ma nella sostanza gli statuti locali vengono mantenuti in virtù delle dedizioni da parte del potere veneziano. Non solo, il mantenimento degli statuti comporta che vanno a ridurre, se vogliamo, la capacità di penetrazione del diritto veneto nei territori di terraferma. Cioè, i grandi confini che noi stiamo cercando di definire sono anche confini di aree, di culture e di modi e forme di intendere il diritto. Da una parte abbiamo il diritto proprio di Venezia, il diritto veneziano, che si fonda sugli statuti di Venezia, e dall'altra abbiamo una realtà plurima, una realtà composita, dove abbiamo delle aree territoriali che si reggono secondo degli statuti locali che non fanno a capo a quel diritto che è il diritto della Repubblica di Venezia, ma fanno a capo a tradizioni di diritto comune e quindi, se vogliamo, costruire una genealogia al diritto romano. Ecco come la dedizione certifica anche questo incontro e scontro, se vogliamo, fra due modi completamente diversi di intendere la giustizia. Abbiamo, insomma, questa conflittualità che abbiamo visto di giurisdizioni, con tribunali locali che insistono sul territorio, ma sulle quali si sovrappongono e si affiancano dei tribunali che sono dei tribunali veneziani, e beh, in nuce del problema sta tutto nel momento in cui si pensa e si formalizza la sottomissione attraverso la dedizione e nella quale, attraverso la dedizione, si certifica la non applicabilità del diritto veneto in forma diretta, perché in forma indiretta lo sarà e come nei territori sottomessi. Per cui, forse volendo tirare un ulteriore minimo denominatore che va a contraddistinguere le varie dedizioni al netto delle varie particolarità, e beh, forse un altro punto cruciale e su cui si è scritto molto è proprio questo. Da tutto quello che abbiamo raccontato, Giovanni, emerge una complessità su cui forse dobbiamo cercare di fare chiarezza anche per il pubblico, perché noi ci arrovelliamo su questi problemi da anni, ma giustamente un pubblico, chiamiamolo generalista, invece si interroga. Ebbene, qual è la conclusione di tutto questo? La conclusione di tutto questo è un dato incontrovertibile. Tra alti e bassi, tra cadute e rialzate, tra zoppicamenti vari e alterne fortune, la Repubblica di Venezia, con queste modalità, con queste basi giuridiche e di patruzione, dura fino alla fine del Settecento. Parliamo di quattro secoli. È ovviamente qualcosa di eccezionale, che va al di là dell'ordinario, extraordinario. Se ciò avviene, soprattutto nella prima fase, è anche merito, grande merito, di Venezia città, quindi della vera Repubblica di Venezia e della sua grande storiografia, della sua produzione storiografica e letteraria, di aver trasmesso in maniera retorica, ma efficiente, non è negativo retorico come aggettivo, l'idea di unitarietà, di essere stata sostanzialmente la liberatrice per molte terre dai tiranni. Questo è il caso di Padova, questo è il caso delle città lombarde assoggettate ai visconti, che erano percepite come appunto dei tiranni. Questa capacità di comunicare all'interno all'esterno la propria immagine, la propria immagine di garante sostanzialmente di cosa, di fede e giustizia, ha permesso alla Repubblica di durare molto a lungo in questo rapporto di contrattazione con le comunità. Poi magari in conclusione diremo che quando ci arrivano al Settecento è sostanzialmente un relitto di un'epoca che non c'è più, è un fossile medievale, medievale, ma questo è un altro problema. A me interessebbe invece sapere da te se c'è qualcosa di iconografico per rendere questa idea. Ma in realtà, guarda, prova ad arrivarci nei pochi minuti che ci restano, da solvere quello che mi ero riproposto di fare, ma poi, sai, come spesso succede... Poi continuiamo dopo. Esatto, come spesso succede, quando si parte a ragionare di questo, poi i temi sono talmente tanti che il discorso prende altre vie rispetto a quelle che ci eravamo proposti, però io vorrei prendere un ultimo spunto che hai dato, che è quello dell'importanza della retorica che giustamente tu sottolini, l'assumiamo in termine neutro, questo termine, in termine oggettivo per quel che è, quindi la produzione di una parola a volta a legittimare determinate realtà, ecco, il ruolo della retorica nel portare avanti questa idea di Venezia per l'appunto come liberatrice delle città suddite, come garante di buon governo, perché ricordiamo che la legittimazione del potere, soprattutto in età moderna, passa soprattutto da quello. Il fatto che chi detiene il potere garantisce verso i suoi sudditi un buon governo che da soli forse non sarebbero in grado di garantirsi. Perché funziona questa costruzione retorica messa in campo con forti energie da parte di Venezia? Perché c'è un contributo a questa produzione retorica da parte dei sottomessi stessi, delle realtà dominate. Vi ho detto di queste orazioni che le comunità suddite sono solite offrire al doge nel momento in cui viene eletto. Beh, e su cosa insistono queste orazioni? Su questi schemi celebrativi qui. Nel andare a ridefinire Venezia come garante di buon governo e garante di giustizia, nell'andare a riconfermare che cosa, quanto pattuito durante le dedizioni e nelle orazioni lo si loda, ma è nel lodarlo lo si richiede. Si ricorda che la comunità suddita è disposta, come fatto in origine, a riconoscere la sovranità di Venezia su di essa, ma altre sì. Si ricorda a che patti si accetta quella sovranità. Le orazioni dedicate ai dogi, che sono spesso pensate come dei vuoti esercizi encomiastici, in realtà portano dei lemmi e dei significati politici potenti. La ridondante presenza di richiami alla dedizione e di richiami a quello che viene garantito dall'edizione, e l'abbiamo detto prima, consigli civici, statuti, controllo sul territorio, è un tratto che definisce appunto anche questa produzione encomiastica. Quindi vediamo come anche nel celebrare Venezia c'è una dialettica, se vogliamo, che tiene insieme tutto quello che abbiamo detto precedentemente. Da un lato un'imposizione di sovranità, tra l'altro una sovranità che conosce dei limiti nel lato stesso di imporsi su un territorio. Detto questo, mi prenderei ancora un minuto, se è possibile, per farvi vedere come, e per rispondere alla tua domanda, come tutta questa complessità che abbiamo cercato di ridurre, ma diciamocelo, non è compito dello storico quello di ridurre la complessità, anzi, è il compito dello storico è quello di esaltarla, e noi questo abbiamo cercato di fare, di cogliere una complessità che c'è dietro a un tema che al contrario troppo spesso viene semplificato. Bene, detto questo, e per rispondere alla tua domanda, a livello iconografico, che cosa resta di queste dedizioni? Ebbè, resta poco, ma quello che resta è sostanziale. Anni 70 del 500, due grandi incendi devastano Palazzo Ducale a Venezia, bisogna ripensare completamente la decorazione pittorica, soprattutto di una sala, la sala del maggior consiglio, che come abbiamo detto è il cuore pulsante della Repubblica, lo diciamo, è quella la Repubblica, è quello, è il luogo dove si riunisce il corpo politico della Repubblica, che è il patriziato veneziano, ebbene, bisogna ripensare la decorazione di quel luogo. Al centro del soffitto si commissiona, a un certo Jacopo Tintoretto, si commissiona una rappresentazione gigantesca, è enorme quel quadro, chi lo ha visto lo ha ben presente, che rappresenta che cosa? La volontaria sottomissione delle province, diciamo così, con un titolo che è stato dato a posteriori, ovviamente, a Venezia. Il quadro è di una bellezza incredibile, ma soprattutto riporta tutta quella complessità che abbiamo definito. È un moto ascensionale, vediamo come le comunità suddite che sono rappresentate dai loro ambasciatori salgono quasi con fatica questa scala che li issa verso il Doge, il Doge lì idealmente li presenta una Venezia che è divina in questa rappresentazione, è bene, ma nel fare questo, nel celebrare la forza centripeta di Venezia, che tutto attira con il suo buon governo, tutti vogliono volontariamente sottomettersi a Venezia, è bene, nel fare questo Tintoretto inserisce dei dettagli, che sono dei dettagli, a mio avviso, significativi. Ebbene, ci si presenta con gran fatica a sottomettersi di fronte al Doge e attraverso il Doge a Venezia, ma nel farlo si portano con sé in bella vista gli statuti locali, i privilegi pregressi, dei quali si supplicherà, perché ricordiamocelo, i patti di direzione vengono supplicati, vengono formulati delle richieste che formalmente il Doge, come rappresentazione del tutto quel corpo politico che è la Repubblica di Venezia, concederà, ufficialmente ricordiamoci che è questa la negoziazione, ecco, Tintoretto questo lo mette bene in luce, mettendo, insistendo con una certa ridondanza su questa presenza di documenti che certo vanno a certificare la sottomissione a Venezia, ma anche la persistenza di prerogative locali. E questo è il cuore del maggior consiglio, viene posto al cuore del maggior consiglio. Questo credo che sia un dato oltremodo icastico, ma che rende chiaramente tutta questa complessità che abbiamo cercato di raccontarvi questa sera con questa nostra chiacchierata. Tu Giovanni, questa sera hai giustamente iniziato parlando del teatro accademico di Castelfranco in cui ci troviamo e che è vuoto. Noi ovviamente auspichiamo che i teatri possano essere di nuovo popolati dal pubblico, non solo per sentire parlare di storia, né tantomeno di dedizioni alla Repubblica di Venezia. Bene, io faccio un ringraziamento ulteriore al Comune di Castelfranco e a Matteo Melchiorre, a Museo Giorgione, insomma tutta la comunità di Castelfranco. Andate a cercare i segni materiali urbani o rurali di questi fenomeni che sono stati appunto i patti di dedizione. E' presto detto, nei patti di dedizione per esempio si chiedeva a Venezia di avere una casa, un albergo, un fondaco presso cui la comunità soggettata potesse risiedere in laguna. Queste case e queste calli esistono ancora. Io ovviamente conosco quello della mia città di provenienza, la Calle Bressana, con la Casa dei Bressani che si trova ancora oggi nei pressi di San Giovanni e Paolo. Ma cercate anche quelle delle vostre comunità e all'interno della vostra comunità i segni materiali della sovranità veneziana. Troverete gli stemmi dei cittadini di Treviso o quelli dei rappresentanti veneziani? Questo è da scoprire. Speriamo di poter presto tornare tutti a fruire del nostro patrimonio storico.